Bonjour, mio nome è Fardina, io sono una grande suonatrice di codesto strumento, chiamasi l'autodolce, questo è un corso online, quindi per vederlo dovete pagare un euro. Quanto altro male ti farà la solitudine, Marco sta con un'ipotetica chiara, dai capelli probabilmente Crespi, io devo sapere immediatamente chi è per andare a giocare su Facebook, su Skype, perché sono entrata in pistazione, perché se io lo chiamo rispondo la si vederà in una volta, però è vero che sta con questa ipotetica chiara, ora sono entrata in pistazione, in paranoia o in pistazione? Marco mi piace veramente, ed è questo il punto. Mi sta a tre classi di distanza da me, e non riesco mai a giurolare, non potete mai funzionare. Basta dicono, dicono all'amore, dicono all'amore a tutto quello che spezza il cuore. Oggi si è avviorato il sogno di un anno scolastico, sono stata divisa in prima, per l'ultima ora, cioè sono uscita con Marco, e Marco stava davanti a me tra i banchi. Non posso dimenticarlo. È tutto a merito perché, o perché sto avendo più fede in Dio, e perché ieri ti è passata a benedire questa casa, oppure perché ho inviato il messaggio della fortuna. Il messaggio della fortuna è quella catena che in te dovrebbe passare per tutta Italia, e se non è via nessuno, alla fine di rimanere la sfiga. Forse, in effetti sì, oggi non ero il massimo della bellezza, il problema è che sempre quando vado da Marco non sono il massimo della bellezza. È qualche modo anche per me, ma lo so. Cioè, non è che lo so. Credo. Spero, ma perché non è in questo modo, Uffi? Tra solamente due ciocchi, si compie due mesi, aspettavo questo momento da un mese. Allora, cosa mi ha regalato Marco? Per un altro messaggio di fare, lui mi ha fatto questo. Oggi è San Valentino, e io sono distrutta. Probabilmente tra un po' Marco mi lascerà. Marco mi ha lasciato. Però me ne sono fatta una ragione, questo non lo sapevate, eh? E sono una sorpresa per tutti. No, mi sta pretenendo, perché se no prima ho ballato pure la tarantella, quindi non lasciamo stare. Mi ha chiesto, ma è vero che tutti i servizi hanno commesso solo per fare un gelatino a un'altra? Allora ha fatto no. Mi ha fatto lo giuri, io gli ho detto di sì. E poi mi ha fatto su cosa, mi ha fatto su di tutto. E mi ha messo una mano sulla spalla. E sono entrata a casa, ho fatto un bel respiro, ho posato delicatamente lo zaino, mi sono dato la chiacchietta e poi ho fatto... E smone mi ha abbracciata, te no, 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 te no! Femmiti senza Simone. Mi è assolutamente vero appena, ma senti male senza Simone. Grazie a tutti, ciao! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah